Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. In occasione della mostra Moroni dall'Accademia Carrara a Gandino, si terrà venerdì 26 luglio alle ore 20 e 30 presso il Valazzo Vicario nel Salone della Valle una conferenza su un Moroni per Gandino, dedicata alla storia e all'iconografia della deposizione di Cristo nel sepolcro di Moroni. Ingresso gratuito. Venerdì 26 e domenica 27 luglio, presso il Parco di San Lorenzo di Robetta, l'Associazione Sportiva di Lentantistica organizza la prima edizione di Decibel San Lorenzo Beer Fest. Due serate all'insegna della musica, con concerti di band inedite, della buona cucina e dell'ottima birra artigianale. Dal 26 al 28 luglio ad Alzano Lombardo si terrà la terza edizione di Alzano Summer Festival, festival dedicato alla musica pop e rock, con spazio anche per band locali. Inoltre ci sarà un servizio di street food, appuntamento dalle ore 19 presso il piazzale del mercato. Dal 26 al 28 luglio si terrà la 14esima edizione della Festa della Sorgente di Cerete, festa caratterizzata dalle tradizionali attività legate ai mulini. Il tutto sarà gioiosamente completato da musica e cucina tipica bergamasca. Sabato 27 luglio a Gandellino, per la rassegna A levare l'ombra da terra, si terrà alle ore 21 in Piazzetta Sant'Antonio uno spettacolo teatrale intitolato Per Aspera ad Astra, omaggio a Mia Martini, un racconto di musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. Appuntamento sabato 27 luglio ad Ardesio con la seconda tappa della Corri nei Morghi 2019. Ritrovo alle ore 16 presso l'oratorio di Ardesio e alle ore 17.30 partenza gare. Domenica 28 luglio a Clusone si terrà la Festa del Millenio, suggestiva rievocazione storica che giunge alla sua 26esima edizione. Appuntamento alle ore 4 del mattino nel Centro Storico, alla scoperta del passato clusonese dal Sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta. Sempre domenica 28 luglio a Casnigo, il corpo musicale Angelo Guerini donerà i suoi omaggi alla Madonna d'Erbia con un concerto bandistico. Appuntamento alle ore 17 presso il santuario della Madonna d'Erbia. Promo Serio, in collaborazione con il Parco delle Orobie Bergamasche, organizza per domenica 28 luglio un'escursione guidata in Val Sanguigno, piccolo paradiso di biodiversità incastonato tra imponenti piramidi rocciose, verdi distese e deliziosi laghi d'alta quota. Info e prenotazioni al numero 035 70 40 63. Martedì 30 luglio, in occasione della giornata mondiale dell'amicizia, alle ore 21.15 a Cassione della Presolana, il massiccio della regina delle Orobie, la Presolana, sarà illuminato dai potentissimi fari della Croce Blu di Gromo. Alle ore 21.30, concerto del complesso musicale Presolana, in località Predusolo. Tornano anche questo fine settimana gli appuntamenti con i percorsi turistico-culturali con degustazione. Giovedì 25 luglio a Val Goglio, una passeggiata vi porterà alla scoperta delle chiesette di Selva D'Agnone e San Rocchino. Ritrovo alle ore 15.30 presso un municipio di Val Goglio. Invece, sabato 27 luglio a Cassione della Presolana, un itinerario vi porterà alla scoperta delle ville del Passo della Presolana e la sorgente dell'acqua benedicta trovata all'inizio Novecento. Domenica 28 luglio, un itinerario guidato vi porterà a Rovetta alla scoperta della splendida pala del Tiepolo, custodita nella chiesa parrocchiale, e della chiesa dei Disciplini. Ritrovo alle ore 15.30 presso il Sagrato della chiesa parrocchiale. Sempre domenica 28 luglio a Clusone, visite guidate all'Orologio Fanzago e alla Danza Macabra di Clusone. Ritrovo alle ore 10.30 presso Piazza Orologio. La prenotazione a tutti questi percorsi è obbligatoria, chiamando il numero 342 38 97 672. Per questo appuntamento è tutto. Vi ricordiamo che potete trovare maggiori informazioni su tutti gli eventi della settimana in Val Seriana e in Val di Scalve sul nostro portale www.valseriana.eu Arrivederci e buona serata.